buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 24 maggio 2024 24 maggio ci ricorda qualcosa insomma nel prima metà del secolo scorso ma è una data che rimane insomma anche nell'orecchio perché bisogna ricordare anche questi momenti che furono decisivi per lo stato italiano 24 maggio ed ora vediamo subito l'albanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi non è un santo qualunque ma è un titolo che viene attribuito alla Madonna a Maria Santa Maria ausiliatrice questa è una festa che fu istituita da Papa Pio VII Papa Pio VII è quel Papa che ebbe a che fare con Napoleone Napoleone aveva invaso l'Italia insomma assediava lo stato della chiesa bene Pio VII fu condotto prigioniero da Napoleone a Fontainebleau il quale ottenuta la grazia della sua liberazione fu infatti liberato il 24 maggio del 1814 volle ringraziare la Madonna istituendo questa festa e a Savona assolse a questo voto e appunto dichiarò la festa di Santa Maria ausiliatrice Santa Maria ausiliatrice è l'aiuto di tutti i cristiani e non è così fatta a caso l'invocazione auxilium cristianorum con cui terminano le litanie del rosario e questa fu appunto una aggiunta che fece Papa Benedetto XIV insomma una cosa piuttosto recente auxilium cristianorum beh ci ho detto passiamo alle previsioni del tempo oggi il tempo dicono i meteorologi dovrebbe essere bello tempo stabile soleggiato durante la prima parte della giornata su tutta la regione Marche a seguire ci dovrebbe essere un aumento della nuvolosità a in modo particolare nella zona peninica i venti i venti sulle coste espirano da est e sud est nell'entroterra da sud ovest le temperature 15 la minima 22 la massima in provincia di peso lumino lievemente superiore nel sud delle Marche dove la massima raggiungerà i 23 gradi il sole il sole sorto alle 5 33 e tramonterà alle 20 e 34 queste un po le condizioni del tempo il tempo si sa influisce sull'umore delle persone e quindi oggi dovrebbe essere una giornata piuttosto piacevole e allora noi come sempre apriamo i giornali e vediamo subito come inizia il la pagina fanese del Corriere Adriatico purtroppo troviamo un incidente e lo troviamo anche sulla prima pagina del resto del Carlino purtroppo un incidente mortale che si è verificato l'altra sera a notte di notte a Bellocchi nella sesta strada travolta in strada da un'auto di notte muore sotto gli occhi della nipotina a morire è stata una signora di origini albanesi che abitava a Fano e da molti anni era perfettamente integrata con tutta la comunità locale e veniva apprezzata anche per la sua onestà la sua dolcezza la sua comunicabilità investita a Bellocchi aveva 56 anni illesa ma sotto sciocche la bambina la nipotina era con lei per fortuna la bambina non ha riportato danni ma ovviamente ha avuto un trauma psicologico particolarmente importante e l'investitrice viene indagata per omicidio stradale qual è la dinamica dell'incidente ancora è sotto inchiesta da parte degli inquirenti indaga la polizia stradale di Cagli lo si sa non c'erano testimoni c'era solo la bambina e in questo momento ma insomma bisogna passare un po' di tempo per riuscire a ricostruire un po' il tutto la donna è stata investita da una smart diretta verso monte mentre camminava ai margini della carreggiata l'urto l'ha sbalzata verso un vicino campo coltivato sembra che la zona sia piuttosto buia ci sono delle piante che limitano la visibilità e quindi la conducente una donna fanese di 49 anni che a sua volta abita nella zona di Bellocchi comunque lei si è subito fermata e ha prestato soccorso ha subito chiesto aiuto però insomma ora viene indagata dalla polizia vediamo anche come riporta la notizia il resto del carlino donna falciata da un'auto davanti alla nipote a 56 anni muore mentre torna dal lavoro una tragedia a Bellocchi a investire si chiamava cosetta cosetta la chiamano poi cosetta cusciai è stata una smart la conducente ripeto denunciata per un bicidio stradale la ragazzina illesa ma sotto shock e qui abbiamo le immagini del luogo dell'incidente pubblicate dal resto del carlino insieme alla foto della vittima una donna una donna bellissima dentro e fuori alla famiglia non faceva mancare nulla è la testimonianza di un'amica si tratta di clarita grasdani mediatrice interculturale dell'ats dell'ambito sociale numero 6 di fano la quale ha ricordato appunto questa donna che era ormai una una di noi e quindi la comunità di Bellocchi si stringe attorno alla sua famiglia purtroppo queste sono cose che ancora capitano nel nostro territorio come capitano poi anche in tutta italia vediamo un altro articolo di cronaca a fondo pagina a fondo pagina vediamo che sono stati arrestati a fano due sospetti organizzatori di una truffa di una truffa condotta a rimini ebbene una truffa contro gli anziani una truffa sugli anziani e il metodo ormai è consolidato un metodo classico arriva la telefonata a una signora anziana dobbiamo dire guardi sua figlia ha avuto un incidente stradale purtroppo le sue responsabilità sono gravi al momento è stata arrestata e per liberarla occorre pagare una cauzione piuttosto onerosa si richierà da lei una nostra persona di fiducia alla quale potrà consegnare denaro e eventualmente se la somma non basta anche preziosi e sua nipote sarà liberata la donna che ha ricevuto questa telefonata purtroppo è stata accolta da un impulso di ansia e ha cercato in fretta e furia di raggranellare quanto più poteva pronta a consegnarla alla persona incaricata di ritirare diciamo noi il bottino per fortuna per fortuna è arrivato un vicino di casa che ha subito capito quello che stava accadendo ha avvisato la figlia la quale ovviamente era del tutto estranea a quanto a lei imputato e la donna ha avvisato i carabinieri i carabinieri sono subito intervenuti hanno avviato le indagini e hanno accertato che questa cellula proveniva appunto da Fano dove a Fano sarebbe stata la base logistica e due truffatori sono stati arrestati della nostra città dalla dai carabinieri di Rimini truffa della casa quindi mi raccomando soprattutto le persone anziane non cadete in queste trappole l'abbiamo evidenziate tante volte sulla stampa anche sui mass media su Fano tv quindi mi raccomando ormai la truffa è consolidata non state a sentire quando qualcuno vi dice dovete pagare perché c'è un vostro parente un vostro nipote che è in pericolo non lo fate non lo fate passiamo passiamo ad altre notizie ebbene la notizia che è stata dinamata ieri dal resto del Carlino riferita a quanto il ministero ha comunicato al comune di Fano per il ritiro dei 20 milioni di euro che erano stati promessi per realizzare un nuovo collegamento tra Fano e Pesaro questi soldi sono stati revocati ebbene tutto questo ha causato ancora di più un movimento di carattere politico siamo in campagna elettorale ed è risorto veramente tutto il centro-destra il centro-destra ieri con il candidato sindaco Luca Serfilippi ha sancito il comportamento dell'amministrazione comunale attaccando in modo particolare il candidato sindaco del centro-sinistra Cristian Fanesi e anche il segretario del partito democratico Renato Claudio Minardi variante Gimarra il colpo finale è il fallimento del centro-sinistra ha detto Serfilippi scusate e l'è candidato spara su Fanesi e anche contro il sindaco Massimo Seri per i 20 milioni tolti a Fano ebbene la variante di Gimarra è stato oggetto di un nuovo colpo assestato al centro-sinistra ormai si sapeva che questa somma era perduta ma in questi giorni è arrivata la comunicazione ufficiale certo è che perdere 20 milioni è una grave carenza si sono stati fatti errori si è perso tempo eccetera tutto questo viene ribadito con forza dal centro-destra il quale evidenzia come le cose sarebbero andate diversamente se l'amministrazione comunale avesse impiegato questi soldi per realizzare la variante a sud del fiume Metauro e non quella che era stata ipotizzata per Gimarra ovvero il collegamento ovvero l'ultimazione diciamo meglio dell'Interquartieri un'opera che avrebbe deturpato le più belle colline di Fano voluta fortemente dal Partito Democratico ma era chiaro che non piacesse affatto né a Incomune che è un partito di maggioranza e alle liste di Seri lo stesso sindaco era un po' in bilico su questa decisione Ser Filippi rivendica la coerenza del centro-destra che insieme con i 5 Stelle si è sempre opposto alla variante di Gimarra e vediamo anche come il resto del Carlino pubblica questa notizia perché ieri si è svolta una conferenza stampa convocata da Ser Filippi 20 milioni a Dio adesso Fanesi si ritiri e questo l'input che dà il centro-destra variante pioggia di reazioni dopo la revoca infatti interviene anche Tiziano Busca candidato sindaco scusate Tiziano Busca del Partito Socialista che è candidato nelle file dei progressisti quindi Fanesi farebbe meglio ritirarsi ha perso la partita ancor primo del fischio di inizio ha detto appunto Busca e poi abbiamo qui tutte le considerazioni che abbiamo sintetizzato fatte dal centro-destra vediamo, torniamo, torniamo sul Corriere Adriatico passiamo ora nell'entroterra per quanto riguarda invece un nuovo progetto che la Fondazione Carifano sta finanziando sono passati poco tempo dall'inaugurazione del nuovo impianto natatorio vicino all'aeroporto Nuotiamo questo è il titolo della nuova piscina il nome della nuova piscina che la Fondazione Carifano investe un altro milione e 350 mila euro per realizzare un centro diurno per anziani e disabili una iniziativa importante a beneficio degli anziani e dei disabili appunto dei comuni dell'entroterra il centro sarà realizzato a Colli al Metauro nei pressi di Calcinelli tra Villanova tra Villanova vediamo un po' e San Liberio il centro diurno di Colli al Metauro nascerà in via Carbonara a poca distanza anche dalla sede della Schnell una ditta importante del nostro territorio che collabora a questa iniziativa con un importo di 100 mila euro il tutto costerà un milione e 350 mila euro i lavori dovrebbero iniziare tra pochissimo dovrebbero concludersi alla fine del 2024 il progetto è partito cinque anni fa sull'input della associazione Anziani Sereni la quale si era già attivata per dare la possibilità alle persone anziane alle più fragili di ancora mantenere viva la loro presenza nel territorio contribuendo alle relazioni sociali e questo ovviamente aiuta anche il benessere di queste persone quindi una nuova iniziativa benemerita della Fondazione Carifano passiamo a Mondavio che in questo momento è compartecipe del ruolo di Capitale Nazionale della Cultura con Pesaro ebbene tante le iniziative per la settimana al Comune assegnata tra la storia e il paesaggio fiorisce l'arte partecipata nel prossimo weekend il clou della settimana della cultura ebbene in questo articolo vengono evidenziati tutti gli eventi e oggi dalle 18 nella Rocca Roveresca ci sarà un'animazione a cura del gruppo storico di Mondavio ci saranno esibizioni di tiro con l'arco danze delle ancelle possibilità anche di degustazioni con prodotti tipici e domani e domenica in via Bramante si potranno ammirare dipinti e sculture di 26 artisti e poi tante altre iniziative per questo fine settimana insomma Mondavio è bella di per sé tutti i giorni della settimana e tutti i mesi dell'anno ma in questo periodo lo è ancora di più un articolo di cronaca che proviene da Mondolfo un artigiano ha così segnalato perché poi non ha denunciato ha segnalato ai carabinieri dei maltrattamenti subiti dal fratello e si è presentato con delle echibosi dei segni molto molto evidenti nei bracci insomma e questo sarebbe l'esito di colpi inferti con un bastone dal fratello mio fratello mi picchia ha detto questo uomo questo questo signore Senigaglia Senigaglia fa discutere la proposta di istituire un divieto di fumo in spiaggia generalmente i concessionari di spiaggia e bagnini sarebbero propensi a farlo ma vorrebbero che lo facessero tutti perché poi temono che i fumatori se in una concessione c'è il divieto vanno nell'altra dove il divieto non c'è e questo a loro non sta bene allora di vieto di fumo le chat sono bollenti i baleari ok va bene però o tutti o nessuno e si teme l'effetto concorrenza vediamo anche qualche notizia della pagina di Pesaro dove per quanto riguarda poi una visione regionale si solleva il problema della Bolkestein si solleva ormai è un problema stabile sui quotidiani da tanto tanto tempo perché questa disposizione europea che grava sulle concessioni balneari fa molto molto discutere ma ormai sembra che siamo arrivati al capolinea ci sono i giudizi dei sindaci dei comuni più importanti delle Marche vediamo quello di Massimo Seri che evidenzia come una certa responsabilità anzi grava parecchia responsabilità grava anche sul governo nazionale anni di demagogia ha detto Seri e adesso il problema ricade su di noi insomma sembra ormai prossima la necessità di istituire le gare per riassegnare le concessioni ma il governo ancora non ha assegnato le linee guida e i comuni sono lasciati da soli per affrontare questo problema e adesso il problema ricade su di noi ha dichiarato il sindaco abbiamo poi di dichiarazioni di Massimo Olivetti il sindaco di Senigallia di Fabrizio Ciarapica di Civitanova di Massimiliano Cerpella di Porto Sant'Elpidio e di Antonio Spazzafumo di San Benedetto del Tronto a questo punto passiamo direttamente dal resto del Carlino dove abbiamo già visto alcune notizie la notizia di apertura purtroppo con l'incidente e poi le dichiarazioni di carattere politico del centrodestra in merito alla revoca del finanziamento per la variante di Gimarra e vediamo invece questo articolo a fondo pagina dove si parla della fibra ottica questa importante innovazione tecnologica che sta cambiando la rapidità delle comunicazioni nel territorio ebbene anche a Fano saranno estesi 50 chilometri di fibra ottica realizzata dalla società Fibra Web che permetteranno alle aziende di navigare sino ad una velocità di centro G BPS in tutale sicurezza c'è stata una convenzione con l'amministrazione comunale e quattro zone industriali saranno coperte dalla nuova infrastruttura digitale sono le zone industriali di Ponte Metauro di Cucurano di Rosciano e di Bellocchi e quanto emerso durante un convegno che si è svolto nella sala della cultura delle comune di Fano la nuova sala della cultura in via Arco d'Augusto dove sono intervenuti i rappresentanti sia dell'azienda stessa che i docenti del Politecnico delle Marche dove la materia appunto della fibra e delle innovazioni tecnologiche è molto presente a livello didattico tiriamo ancora la pagina e vediamo come anche sul resto del Carlino si parli del nuovo centro anziani e disabili realizzati dal che sarà realizzato dalla fondazione Carifano nuovo centro per anziani entro giugno via ai lavori e questo è il rendering del progetto che immostra come lo stabile poi verrà realizzato e poi parliamo del ritorno di una manifestazione che coinvolge le scuole fanesi lunedì 27 e martedì 28 maggio tornerà fuori classe tornerà al teatro della fortuna e sarà un po' la somma di tutte le attività teatrali che sono state condotte nelle scuole è una manifestazione che è tradizionale per quanto riguarda l'attività nelle scuole di Fano che troveranno la sintesi proprio in un momento di rappresentazione saranno diverse le classi le scuole che si alterneranno sul palcoscenico del teatro della fortuna facendo vedere le scelte che hanno fatto per le loro rappresentazioni e soprattutto la capacità di esibirsi sono piccoli davanti a un pubblico ci saranno ovviamente tanti tanti genitori vediamo ad Urbino ad Urbino sono bloccate le radiografie oncologiche e c'è una grande protesta mancano otto radiologi e questo è un altro aspetto delle carenze della sanità locale e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per la visione